Buongiorno a tutti, benvenuti. Come state? Scrivetemi appunto in chat se è tutto a posto, tutto bene. Allora, noi appunto vi abbiamo fatto una sorpresa, quindi questo non è l'ultimo webinar al quale parteciperete, nel senso che insieme alla Regione e con il docente, essendoci appunto resi conto che comunque la trattazione degli argomenti che erano in scaletta sono appunto abbastanza corposi, abbiamo stabilito un'ultima data appunto per questo ciclo di webinar che si terrà il 6 luglio. Quindi questo non è il nostro ultimo appuntamento per questo primo percorso di affiancamento e di aggiornamento, ma appunto avremo un'ultima data il 6 luglio. Poi vi darò anche le indicazioni a seguire al termine di questa mattinata. Anche stamattina come da programma abbiamo l'Avvocato Caruso che entrerà un po' più dentro ai temi della contrattualistica pubblica, anche seguendo un po' quelli che sono le richieste, le necessità, gli argomenti che appunto vanno trattati, vanno conosciuti quando appunto ci si approccia sia lato controlli di primo livello nella disamina del fascicolo, sia quando appunto si attiva una convenzione piuttosto che una concessione e quindi tutte le questioni da tenere bene a mente nella fase attuativa degli interventi che sono a valere sul fondo di sviluppo e coesione. Questo è il nostro fondo di riferimento. Io so che molti di voi lavorano anche trasversalmente su diversi fondi, quindi è chiaro che bisogna poi sempre tenere a mente il fondo al quale è riconducibile l'intervento e quindi le norme ad essi sottostanti. Aspetto ancora qualche minuto, siamo 22 in questo momento. Vi anticipo anche che a seguire e a breve avrete una comunicazione al riguardo, ci stiamo appunto attrezzando per la preparazione appunto dell'attestato. Come ricorderete i primi appuntamenti di questo ciclo sono stati un po' difficoltosi in quanto abbiamo registrato diversi problemi tecnici. Quindi per superare un po' quello che era l'obbligo di presenza a tutti i webinar, visto che poi per esempio uno è stato anche erogato indifferita, abbiamo deciso appunto di comune accordo con l'organismo di programmazione, quindi la dottoressa Emanuela Murri, di attivare una piattaforma i learning del Formez e di mettere a disposizione tutti i materiali relativi su questa piattaforma. Quindi nel prossimo webinar vi spiegherò passo passo come funziona la piattaforma, quali sono i materiali che vi metteremo a disposizione e i test che verranno messi a disposizione per ogni modulo. Quindi cercheremo di superare l'ostacolo del tracciamento della partecipazione con la compilazione di un semplice test dove chi appunto ha potuto seguire in sincrono le docenze avrà facilità nella risposta ai test, chi invece ha avuto problemi magari dovrà necessariamente riascoltare il webinar per poi appunto superare, compilare il test, superarlo e poi avere la facoltà di ricevere l'attestazione di aver seguito appunto questo percorso formativo. Però appunto ve lo anticipo solo, poi vi spiegherò nel dettaglio tutto il flusso da seguire. Allora sono passati 5 minuti dall'apertura della mattinata, inizio a chiedere all'avvocato Caruso di accendere la sua webcam in modo da poter poi iniziare l'illustrazione della appunto della mattinata. Buongiorno Giovanni. Buongiorno. Allora come sempre vi ricordo che la chat è a disposizione dei partecipanti per poter interagire con il nostro appunto docente. Quindi vi prego di utilizzarla al meglio, quindi sappiatene appunto farne buon uso sia assistenza tecnica sia funzionari dirigenti regionali che sono appunto qui oggi con noi. Proveremo appunto verso la metà a fare appunto una pausa cercando di rispondere alle vostre domande. Quindi io mi auguro, auspico una partecipazione attiva di tutti voi e quindi a questo punto lascio la parola a Giovanni per l'inizio dell'attività. Grazie mille Maria Rosaria. Va bene, allora iniziamo nel corso del precedente seminario ci siamo soffermati su alcune questioni fondamentali che riguardano le problematiche della contrattualistica pubblica, nel senso che abbiamo visto ambito soggettivo e ambito oggettivo di applicazione del codice dei contratti e rispetto a quest'ultimo l'ambito oggettivo abbiamo fatto alcune distinzioni che riguardano la causa appunto del contratto che può essere di appalto o concessione, l'oggetto della prestazione che può essere lavori, servizi e forniture e altre distinzioni che riguardano le soglie e quindi il valore della prestazione. Oggi entriamo un po' più nel vivo di queste vicende perché vedremo come quei principi generali che sono affermati dal codice poi vengono declinati in concreto nella gestione delle singole procedure. Quindi vedremo un'applicazione più concreta di questi principi della promozione, della concorrenza, della trasparenza e altri principi che abbiamo visto più approfonditamente nel corso del precedente incontro. L'ultimo incontro si era concluso individuando quali sono le fasi della procedura, nel senso che abbiamo detto che i contratti pubblici costituiscono una fattispecie a formazione progressiva, nel senso che è un procedimento che si snoda attraverso una serie di passaggi che vengono definiti ad evidenza pubblica perché deve essere data evidenza proprio delle ragioni sottostanti la stipula del contratto e anche delle ragioni e del procedimento utilizzato per la selezione del contraente. Queste fasi sono distinte in programmazione, determinazione dove determina al contrario, c'è la fase tecnicamente di scelta appunto del soggetto che sottende poi dei criteri selettivi particolari, una di aggiudicazione in senso tecnico, la stipulazione appunto del contratto e poi una serie di controlli successivi e anche l'esecuzione del contratto. Idealmente la fase pubblicistica e quella privatistica dei contratti della pubblica amministrazione è segnata appunto dalla stipula del contratto perché dalla stipula del contratto in poi ogni vicenda che sorge, in ogni vicenda successiva la pubblica amministrazione opera o meglio dovrebbe operare come se fosse un qualsiasi privato. Per tutto ciò che attiene le fasi antecedenti alla stipula del contratto e invece sono governate da procedure amministrative in senso stretto e quindi sono espressione di un pubblico potere, di una funzione pubblica che governa l'attività dell'amministrazione e ciò ha inevitabili effetti anche in tema di giurisdizione nel senso che per le fasi antecedenti alla stipula del contratto la giurisdizione del giudice amministrativo e quelle successive è rimessa al giudice ordinario. Venendo al dettaglio di queste singole fasi la prima fase che si deve analizzare è quella appunto della programmazione. La programmazione è disciplinata dal codice e si prevede che debba essere adottato un programma biennale degli acquisti per quanto riguarda i beni e servizi e che il medesimo programma invece abbia una valenza triennale per quanto riguarda i contratti inerenti alle opere pubbliche, ai lavori pubblici. Questa programmazione ovviamente risponde a delle esigenze di pianificazione dell'attività della pubblica amministrazione ma risponde anche a delle esigenze di trasparenza e di pubblicità ossia l'obiettivo è quello di rendere dotti preliminarmente gli operatori economici potenzialmente interessati a contrattare con la pubblica amministrazione di quali sono appunto i progetti di acquisto o i progetti appunto di opere che dovranno essere poste in essere dall'amministrazione stessa. Per ogni singolo acquisto è prevista questa programmazione disciplinata a sua volta da un decreto ministeriale del 14 del 2018 che introduce una disciplina più di dettaglio di questa attività ed è previsto che questa attività debba essere svolta da un soggetto referente per la redazione del programma che è chiamato a raccogliere tutte le indicazioni fornite dai RUP e lo stesso referente può essere anche un RUP responsabile unico del procedimento della pubblica amministrazione. sono esonerati dall'obbligo di essere indicati nel programma biennale o triennale degli acquisti o dei lavori solamente quei beni di servizi e forniture di importo unitario inferiore a 40.000 euro. insieme alla programmazione che costituisce anche un'espressione naturale del buon andamento della pubblica amministrazione nel senso che espressione di un'attività pianificatoria che è particolarmente importante per i pubblici poteri può sorgere la necessità o meglio può succedere che la pubblica amministrazione non abbia chiare le competenze le specificità appunto del contratto che vuole stipulare. Ha in mente una determinata esigenza da soddisfare ma non sa quale sia la soluzione contrattuale più idonea a farlo. e per questo motivo oltre ad una fase di programmazione si può inserire una fase anche una fase dal carattere eventuale che è costituita dalle consultazioni preliminari di mercato. Questo è uno strumento che serve a una valenza funzionale alla preparazione appunto dell'appalto e quindi serve per poter articolare la procedura conformemente alle finalità della pubblica amministrazione e assolve anch'esso una finalità informativa rispetto a quali sono le commesse in programma per l'amministrazione procedente. Si colloca idealmente dopo la programmazione degli acquisti però deve precedere comunque la procedura di gara. Anche queste consultazioni preliminari di mercato quindi hanno lo scopo di servire per una preparazione della procedura, ossia capire nel concreto cosa l'amministrazione debba fare per predisporre una gara che abbia ad oggetto una prestazione effettivamente conforme alle sue esigenze. ma al contempo risponde analogamente alla programmazione a delle finalità informative per gli operatori economici interessati che infatti possono interlocuire con la pubblica amministrazione per delineare appunto quali saranno gli aspetti essenziali di questa procedura. Quindi è un'attività che presuppone un'interlocuzione non solo con gli operatori economici ma anche con autorità amministrative indipendenti, consulenze e qualsiasi altra attività di altra natura che serve proprio per strutturare una determinata procedura in modo che risponda al fabbisogno proprio dell'amministrazione. Ovviamente se vi sono anche gli operatori economici potenzialmente interessati a questa commessa vi è il rischio non irrilevante che questi possano condizionare attraverso le proprie interlocuzioni con l'amministrazione il contenuto appunto della procedura. E quindi vi è la necessità di predisporre alcuni accorgimenti per far sì che questa attività, queste consultazioni preliminari di mercato non abbiano l'effetto appunto di falsare la concorrenza o comunque comportare una violazione una violazione appunto dei principi di non discriminazione e trasparenza. Per questo motivo l'amministrazione è tenuta ad adottare delle misure che siano volte ad evitare che questa partecipazione possa alterare la concorrenza e queste misure si sostanziano prevalentemente in un meccanismo di pubblicità e di trasparenza in cui l'amministrazione deve effettivamente dar conto di quali sono tutte le informazioni scambiate con gli operatori interessati. Solo nell'eventualità in cui non è possibile, o meglio per l'effetto delle interlocuzioni avute fra gli operatori e l'amministrazione non sarebbe possibile rispettare la par condicio è previsto che gli operatori che abbiano interlocuito con l'amministrazione stessa possono essere esclusi dalla procedura, sempre che gli stessi non riescano appunto a dimostrare che il loro coinvolgimento in queste consultazioni preliminari di mercato non determini alcun problema rispetto alla violazione appunto dei principi della par condicio e comunque della tutela della concorrenza. L'attività di queste consultazioni preliminari di mercato lo troviamo oggi disciplinate nelle linee guida numero 14 che si pongono chiaramente proprio nell'obiettivo di evitare che si possano consolidare dei vantaggi competitivi per l'assegnazione di questa commessa pubblica però vogliono comunque queste linee guida incentivare l'utilizzo di questo strumento questo qui perché l'amministrazione proprio perché non sempre conosce nel dettaglio alcuni aspetti della tipologia di prestazione di cui ha bisogno ha effettivamente necessità di interlocuire direttamente con gli operatori economici al fine di ridurre alcune asimmetrie informative che possono interessare alcune prestazioni. Si tratta quindi prevalentemente di prestazioni che dovrebbero essere caratterizzate per un alto tasso tecnico e attraverso queste informazioni, queste consultazioni preliminari di mercato si dovrebbero ottenere anche un ulteriore effetto ossia quello di evitare il rischio che alcune gare possano andare deserte. Ovviamente le consultazioni preliminari di mercato non costituiscono una procedura di affidamento in senso stretto e in questo caso vanno quindi tenute distinte da modelli simili come il dialogo competitivo in cui vi è un'interlocuzione diretta con l'amministrazione che però invece costituisce un modello di affidamento del servizio di un'attività o di una commessa vera e propria e quindi si colgono in una fase pre-gara ossia sono precedenti alla procedura di assegnazione di una determinata commessa. Ovviamente è uno strumento dal carattere facoltativo e preliminare e proprio perché è privo di questi effetti sulla gara non assume carattere decisorio ma come detto risponde ad esigenze istruttorie della stessa amministrazione e conoscitive sia per l'amministrazione sia per gli applicatori economici interessati. Ovviamente questo modello di consultazioni preliminari di mercato anche in funzione dei potenziali rischi che comporta nel senso che potrebbe sempre determinare un qualche vantaggio competitivo per gli applicatori interessati è indicato quando si tratta di accordi su beni e servizi che abbiano un qualche elemento di specificità di cui l'amministrazione non dispone integralmente. Pertanto noi normalmente ritroviamo questo meccanismo soprattutto per quanto riguarda i contratti che attengono a beni che abbiano un'elevata componente tecnologica o abbiano carattere innovativo mentre invece deve escludersi la possibilità di ricorso a queste procedure qualora si abbia come oggetto o il contratto abbia come oggetto prestazioni standardizzate cui l'amministrazione ricorre più frequentemente. Il caso emblematico dell'applicazione di queste consultazioni preliminari di mercato è quando per esempio l'amministrazione ha bisogno di un determinato software gestionale per alcune pratiche. Può darsi che l'amministrazione non sappia che questo software già esiste oppure abbia l'esigenza appunto di creare un software ad hoc e con queste consultazioni preliminari di mercato effettivamente l'amministrazione può definire meglio quello che sarà l'oggetto della prestazione di cui ha bisogno e anche capire, avere un po' una contezza sulle condizioni del mercato di riferimento. Potrebbe esserci un unico software che è prodotto in esclusiva da solamente un'impresa oppure vi potrebbero essere diverse soluzioni alternative. Terminata questa fase che come detto è puramente eventuale l'atto essenziale questa volta effettivamente necessario per la gestione della procedura è che il primo atto del procedimento è la cosiddetta determina a contrarre. È un atto fondamentale della procedura perché in esso l'amministrazione deve individuare tutti gli elementi essenziali del contratto e anche criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. È un atto la cui responsabilità, la cui adozione spetta al dirigente e serve per esprimere definitivamente la volontà della pubblica amministrazione di voler concludere un determinato contratto. Ciò nonostante questo rimane come un atto interno della pubblica amministrazione e quindi non assume una valenza negoziale. Il modello di questa determina a contrarre non è inserito direttamente nel codice dei contratti della pubblica amministrazione ma noi lo ritroviamo ben delineato in una disposizione del testo unico degli enti locali, ossia il decreto legislativo 267 del 2000 che è l'articolo 192 ci indica cosa deve contenere questa determina a contrarre che deve precedere la stipula di ogni contratto. Deve contenere quindi un'indicazione del fine che con il contratto si intende perseguire ossia qual è l'interesse pubblico sotteso alla stipula di un contratto l'oggetto appunto del contratto, ossia qual è la prestazione effettivamente concretamente dedotta nel contratto lavoro, servizi e fornitura la forma e le clausole essenziali del medesimo contratto le modalità di scelta appunto del contraente che sono conformemente alla disciplina del codice dei contratti della pubblica amministrazione e le ragioni che sono alla base della scelta di una piuttosto che di un'altra modalità di selezione del contraente. Ovviamente la disciplina del testo unico degli enti locali ci ricorda che in questo caso si applicano le procedure previste dall'Unione Europea ma ciò poco rilevante perché abbiamo visto che sono state tutte trasfuse nel nostro ordinamento attraverso il codice dei contratti. Una volta chiarito appunto la natura di questa determina a contrarre tra gli atti che devono essere predisposti a corredo appunto di questo atto principale vi sono una serie di documenti che integrano la cosiddetta lex specialis lex specialis che è espressiva di tutto l'insieme di regole che governano il procedimento di selezione del contraente che devono essere predisposte dalla stazione rapportante e poi vincolano secondo la teoria appunto degli autovincoli tanto la stazione rapportante quanto gli operatori pubblici che partecipano a una determinata procedura. La lex specialis comprende essenzialmente o almeno di norma tre documenti il bando che fissa le regole generali della procedura il disciplinare che si concentra più sul procedimento di gara in senso stretto e il capitolato che invece descrive gli aspetti tecnici e prestazionali che devono essere definite in funzione appunto dell'installazione del vincolo contrattuale. Questa distinzione ideale in realtà non sempre è rispettata dalle pubbliche amministrazioni e troviamo spesso aspetti che dovrebbero essere parte del capitolato inseriti nel disciplinare e viceversa. Quindi solamente da una lettura integrale di tutti questi documenti si può avere appunto contezza su quale sia l'effettiva articolazione della procedura di gara. Per quanto riguarda il bando è un atto amministrativo di carattere appunto generale che ha l'effetto di render pubblica la definitiva intenzione di procedere a giudicare appunto una determinata commessa e nelle elaborazioni di questo bando le amministrazioni devono conformarsi almeno di norma ai banditipi che sono predisposti dall'ANAC. Nelle procedure ristrette il bando è seguito da un diverso atto d'invito sia la lettera d'invito a presentare l'offerta nei confronti di soggetti che abbiano già presentato domanda di partecipazione e che abbiano effettivamente requisiti di partecipazione in altri casi il bando unitamente al disciplinare contiene tutti gli elementi che consentono una partecipazione immediata. Come dicevo il disciplinare fissa le regole di ammissione e di svolgimento della procedura i requisiti nonché i termini di presentazione delle offerte criteri di valutazione perché proprio è strettamente funzionale alla disciplina del confronto competitivo fra gli operatori economici mentre il capitolato ha una valenza strumentale alla costruzione del sinagma contrattuale e contiene una disciplina tecnica e di dettaglio sugli elementi delle singole prestazioni. A fianco al capitolato può essere integrato da alcune specifiche tecniche che definiscono ancora più nel dettaglio alcune caratteristiche della prestazione di cui si vuole avvalere l'amministrazione e devono essere ovviamente rispettate nella presentazione e modulazione dell'offerta secondo quanto definito dall'amministrazione. Per quanto chiariti questi aspetti sulla Lex Specialis l'amministrazione si trova di fronte all'alternativa di scegliere fra due sistemi ordinali per l'affidamento dei contratti pubblici e la scelta fra questi due sistemi, fra procedura aperta e procedura ristretta è rimessa nella piena discrezionalità della stazione appaltante. La differenza fra queste procedure risiede prevalentemente nel momento in cui si presentano l'offerta perché nelle procedure aperte l'offerta viene presentata direttamente dagli operatori economici che sono quindi tutti ammessi alla procedura salvo la verifica esposta appunto del possesso dei requisiti di partecipazione mentre nelle procedure ristrette gli aspiranti devono presentare una domanda di partecipazione alla procedura e dopo una verifica appunto della sussistenza dei requisiti solo i concorrenti che avranno dimostrato di possedere i requisiti le capacità tecniche economiche necessarie per la presentazione appunto di un'offerta verranno invitate attraverso l'opposita lettera d'invito alla partecipazione, alla presentazione appunto dell'offerta quindi procedure aperte e ristrette in realtà anche le procedure ristrette sono aperte nel senso che sono astrettamente aperte alla partecipazione di tutti gli operatori ma si differenziano da quelle ristrette solo per la presenza di un momento iniziale preliminare di valutazione sulla sussistenza dei requisiti di partecipazione la scelta fra l'uno o l'altro modello procedura aperta o procedura ristretta dipende sostanzialmente da scelte discrezionali dell'amministrazione che potrà tener conto magari delle specificità del mercato di riferimento e anche del numero di operatori economici presenti su quel mercato vi sono alcune circostanze in cui per esempio se è previsto come criterio di aggiudicazione il prezzo più basso non vi sarebbe alcuna necessità di ricorre ad una fase preliminare di selezione appunto degli inviti mentre una fase preliminare di selezione degli inviti è quando l'amministrazione in funzione del numero degli operatori voglia effettuare una preliminare selezione perché l'attività della commissione di gara sarà più complessa in quanto dovrà riguardare l'analisi di aspetti al contenuto altamente discrezionale a fianco alla distinzione fra procedure aperte e ristrette c'è un'altra distinzione che riguarda le cosiddette procedure negoziate le procedure negoziate sono quelle in cui le amministrazioni le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto ci sono alcuni casi in cui questa procedura negoziata si è strutturata come una procedura competitiva nel senso che analogamente a quanto visto per le procedure ristrette qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione e risposta appunto a questo avviso l'amministrazione poi interroguirà e negozierà appunto con gli operatori economici selezionati mentre la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando è una procedura un po' più delicata per tutti gli operatori pubblici perché sono delle procedure che si espongono ovviamente maggiormente al rischio di violazione appunto di quei principi di parcondice e di trasparenza e che per questo motivo sono sottoposte a dei criteri molto restrittivi quindi ritornando alla distinzione la procedura competitiva con negoziazione è sostanzialmente riproduttiva delle procedure appunto ristrette l'unica differenza con le procedure aperte e ristrette è che in questo caso le offerte sono oggetto di trattativa con l'ente appaltante volta ad individuare questa trattativa quale sia appunto l'offerta migliore la procedura negoziata invece senza bando è una negoziazione diretta che proprio per i rischi che comporta è limitata a casi eccezionali e la relativa scelta va sempre attentamente motivata nel rispetto delle condizioni tassative previste dal codice quali sono queste condizioni che consentono il ricorso ad una procedura negoziata? chiedo scusa mi sembra che forse inserite in un'unica pagina sono un po' di ostica lettura questa procedura può essere è subordinata al riscontro di una serie di presupposti il primo dei quali è che vi sia stata già una gara e non era stata presentata alcuna offerta alcuna offerta appropriata o nessuna appunto domanda di partecipazione in questo caso se l'amministrazione ha già svolto una gara e questa gara è andata deserta può procedere con lo strumento della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ovviamente con l'onere di far sì che le condizioni iniziali della procedura posta a gara siano sostanzialmente le medesime di quegli oggetto della procedura negoziare altrimenti vi sarebbe diciamo un'elusione della relativa disciplina se poi l'oggetto della prestazione dovesse mutare nel corso della procedura negoziata un'altra ipotesi che consente la procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara sono legate a tutte quelle particolari circostanze in cui una determinata prestazione può essere offerta unicamente da un operatore economico nel senso esiste solo un operatore economico in grado di offrire quella determinata prestazione questo è il caso emblematico è l'esempio della creazione di un'opera d'arte oppure di una rappresentazione artistica dove l'amministrazione ha bisogno di quell'opera d'arte o di quella opera artistica mentre altri casi sono legati a questioni un poco più delicate che presuppongono comunque un'analisi del mercato di riferimento e in questo caso vi possono essere delle particolari ipotesi in cui la concorrenza appunto in un determinato settore è assente diciamo per motivi di carattere tecnico immaginiamo alcune attività che vengono smolte in monopolio soprattutto nel settore dei servizi a rete oppure la concorrenza può essere ritenuta assente per la presenza di diritti esclusivi inclusi quelli di proprietà intellettuale pensiamo per esempio all'acquisto di alcuni software particolari di scrittura per esempio gli architetti utilizzano dei software che mi sembra autocad che sono prodotti unicamente appunto da un determinato fornitore economico operatore economico e quindi necessitano per la loro interlocuzione proprio quel determinato software su cui esistono dei meccanismi di tutela della proprietà intellettuale ovviamente qui l'amministrazione la scelta per l'amministrazione di procedere ad una procedura negoziata senza pubblicazione del bando legale è una scelta particolarmente delicata e qui quando l'amministrazione vuole ricorrere a questa procedura deve fare bene attenzione di valutare e di motivare attentamente se in realtà l'assenza di più operatori economici sia effettiva o se all'opposto possano esistere appunto degli operatori economici che forniscano servizi che in grado di raggiungere il medesimo scopo e quindi bisogna guardare pure le caratteristiche appunto del servizio stesso l'ultima ipotesi che consente il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando è quella in cui vi siano delle ragioni di estrema urgenza che sono legate ovviamente non imputabili alla condotta dell'amministrazione a giudicatrice e che sono legate a esigenze di protezione civile o esigenze ambientali come nei casi di bonifica e messa in sicurezza di sete di siti contaminati e ovviamente purché i termini vista la preminenza appunto di questi interessi pubblici purché parallelamente al ricorso appunto di queste ragioni di urgenza facciano sì che i termini per l'ordinario svolgimento delle procedure competitive non potrebbero essere altrimenti rispettati questa descrizione fra la tipologia di procedure fra la scelta appunto di procedure adottata e il modello appunto di selezione poi si traduce per gli operatori in specifici adempimenti che sono previsti anche dalle vostre checklist di autocontrollo e così dalla checklist di autocontrollo c'è la necessità di indicare quale delle procedure è stata adottata ok procedura aperta procedura ristretta e via dicendo si chiedono specifici adempimenti nel caso in cui sia stata adottata una procedura negoziata senza pubblicazione del bando e qui in particolare l'amministrazione in sede di autocontrollo bisogna valutare se esiste una motivazione nella delibera o nella determinazione a contrarre dove si è deciso appunto di avviare la procedura senza pubblicazione del bando e bisogna verificare se poi effettivamente queste motivazioni rimandano ad uno di quei casi che abbiamo visto in cui il ricorso alla procedura senza pubblicazione del bando è effettivamente concessa e poi avete anche l'onere di verificare se sussiste questa delibera o determina a contrarre dovrete anche indicare gli estremi dell'atto gli estremi appunto del relativo all'atto unitamente alla verifica sulla nomina del responsabile unico del procedimento questi sono una serie di adempimenti che sorgono diciamo immediatamente che sorgono con la definizione della procedura di gara e trattandosi di passaggi essenziali sono giustamente riproposti nelle checklist di autocontrollo e non è un caso che proprio queste checklist di autocontrollo si concentrino proprio sulla procedura negoziata senza pubblicazione appunto del bando perché è quella che è obiettivamente più delicata rispetto agli interessi dell'amministrazione e anche rispetto agli interessi di tutela della concorrenza e degli altri valori cui devono uniformarsi le procedure venendo agli obblighi di pubblicità questi obblighi di pubblicità sono espressione del principio appunto di trasparenza che oggi trova una è cristallizzata nella legge 241 del 1990 che però nel caso della contrattualistica pubblica assumono un valore diverso e in un certo senso ancora maggiore perché non rispondono semplicemente a perché le esigenze di trasparenza in questo caso sono più direttamente orientate a garantire l'effettività nella tutela appunto della concorrenza e nell'effettiva contendibilità di una commessa pubblica sicché troviamo questi obblighi di trasparenza declinati sia a monte appunto della procedura di gara ossia in una fase preliminare sia durante l'espletamento appunto della procedura di gara sia nella fase successiva alla gara stessa questa pubblicazione è garantita in primo luogo mediante questa pubblicità è garantita in primo luogo mediante la pubblicazione del bando sia a livello europeo sia a livello appunto nazionale e poi sono richiesti appunto degli adempimenti differenziati in funzione del raggiungimento di determinate di determinate soglie e segnatamente appunto per le soglie comunitarie in cui è richiesta una preinformazione ossia si impone l'obbligo per la pubblica amministrazione di contenere di pubblicizzare un avviso contenente l'indicazione appunto di quegli appalti che la pubblica amministrazione ha l'intenzione di adottare per quanto riguarda questioni di pubblicità sono differenziati fra affidamenti sotto soglia e sopra soglia perché per gli affidamenti sotto soglia devono essere pubblicati sulla gazzetta ufficiale italiana e dentro due giorni sul profilo del committente e sulla sua e sulla piattaforma informatica del ministero delle infrastrutture e dei trasporti mentre invece per quanto riguarda gli affidamenti sopra soglia questi devono essere pubblicati oltre che ovviamente sulla gazzetta ufficiale italiana e sul sito istituzionale appunto dell'amministrazione anche attraverso anche sulla gazzetta ufficiale europea nonché per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale qui in questo caso vediamo che proprio attraverso la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale dell'Unione Europea qui l'onere di pubblicità gli obblighi di pubblicità sono proprio funzionali a garantire quelle libertà fondamentali definite dagli stessi trattati dell'Unione Europea perché vogliono garantire che anche le imprese estere siano perfettamente dotte appunto sulla sussistenza di una determinata dell'intenzione dell'amministrazione di procedere dell'affidamento di una determinata commessa e quindi anche in questo caso si vede meglio diciamo la proiezione la proiezione rispetto agli interessi di tutela della concorrenza di questi obblighi di pubblicità questo obbligo di pubblicità è quindi funzionale anche alla presentazione delle offerte e tant'è che i termini per la presentazione delle offerte decorrono proprio dalla pubblicazione degli avvisi e devono di norma rispettare dei termini minimi che per le procedure aperte sono di 35 giorni e per le procedure ristrette e competitive sono di 30 giorni anche questi obblighi di pubblicità si traducono in specifici adempimenti nelle checklist liste di autocontrollo tant'è che si chiede appunto di verificare che siano state rispettate le norme in tema di pubblicità se c'è stato un avviso di preinformazione se c'è stata la pubblicazione del bando nonché l'avviso di esito appunto della gara e richiede anche l'indicazione del rispetto dei termini minimi per la ricezione delle domande di partecipazione o delle domande delle offerte un passaggio particolare è che viene richiesto all'ultimo punto di questa checklist se vi sono state anche formazioni aggiuntive richieste dagli appaltatori se le stesse sono state notificate agli altri candidati qui si tratta della questione dei cosiddetti chiarimenti chiarimenti che l'amministrazione può fornire in sede di gara rispetto ad elementi equivoci potenzialmente equivoci degli atti della Lex Specialis bisogna però chiarire che questi chiarimenti benché debbano essere pubblicati ed adeguatamente pubblicizzati non possono sono necessariamente sotto ordinati alla disposizione del bando del disciplinare e del capitolato e quindi non possono alterare in alcun modo alcuni aspetti dagli stessi disciplinati se vi dovesse essere una discrepanza fra chiarimenti e contenuto appunto del bando prevale sempre il contenuto del bando e se l'amministrazione proprio in sede di chiarimenti si dovesse rendere conto di un errore appunto nell'indicazione di alcuni aspetti contenuti negli Alex Specialis non potrebbe farvi fronte con dei semplici chiarimenti ma dovrebbe appunto rindire un nuovo bando e procedere appunto ai conseguenti interventi correttivi chiariti questi aspetti vediamo quindi quali sono i criteri di aggiudicazione i criteri di aggiudicazione sono i criteri con cui l'amministrazione procede effettivamente alla selezione delle offerte e qui ci sono due criteri ognuno dei quali presenta vantaggi e svantaggi e c'è il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e l'altro criterio è quello del prezzo più basso il criterio del prezzo più basso è il criterio di più facile applicazione perché è sufficiente per l'amministrazione verificare qual è il prezzo più basso offerto appunto dagli operatori economici e quindi riduce al massimo la discrezionalità dell'amministrazione procedente ed è un criterio che infatti aveva trovato la fortuna proprio all'indomani degli eventi che avevano caratterizzato tangentopoli e mani pulite e si era cristallizzato come criterio ordinario per l'affidamento appunto di determinate opere pubbliche dove era maggiore appunto il rischio di contaminazione degli aspetti selettivi dell'offerta e quindi con questo criterio si voleva evitare in un settore specifico che l'amministrazione potesse disporre di ampi spazi di discrezionalità tuttavia questo criterio ha esposto l'amministrazione a rischio di prestazioni scadenti e parallelamente anche a rischi di di un incremento del valore appunto della prestazione attraverso un altro meccanismo che vedremo a breve che è quello delle varianti secondo le indicazioni europee il criterio preferenziale che oggi è pure ricepito appunto nel codice è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa in cui la valutazione sul prezzo costituisce solamente una componente della valutazione che dovrà essere effettuata dall'amministrazione che dovrà definire quali siano i parametri per essa rilevanti ai fini della definizione appunto della migliore offerta in rapporto a criteri di qualità prezzo qui i margini dell'amministrazione sono assai ampi all'atto della predisposizione del bando e dipende dalle specificità della singola prestazione quali sono gli elementi che possono essere valorizzati dall'amministrazione stessa può dar rilevo alle tempistiche di esecuzione di una determinata attività può dar rilevo al profilo curriculare degli offerenti può dar rilevo a tante caratteristiche appunto nella modalità con cui viene offerta questa prestazione che possono subire tante vicende ovviamente c'è il vincolo o meglio si generano appunto degli auto vincoli nel senso dell'amministrazione una volta che definisce determinati parametri deve attenersi a quei parametri definiti per quanto riguarda un meccanismo che riguarda entrambe entrambe i criteri ossia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa e quella del prezzo più basso e quello dell'anomalia appunto dell'offerta cioè l'amministrazione si può trovare di fronte a delle offerte che sembrano eccessivamente basse rispetto a quanto richiesto alla tipologia di prestazione richiesta e quindi in questo caso la legislazione si è preoccupata appunto di verificare di poter ovviare a quei problemi che caratterizzavano prevalentemente il criterio del prezzo più basso ma che caratterizzano qualsiasi tipologia di offerta e quindi prevedere dei meccanismi di verifica sul perché un operatore economico abbia provveduto abbia offerto diciamo una prestazione ad un corrispettivo notevolmente inferiore a quelli che possono essere i prezzi di mercato i meccanismi per verificare se un'offerta può essere considerata come offerta anomala sono oggi prevalentemente affidati a delle modalità di calcolo sostanzialmente automatiche normalmente c'è un software che calcola automaticamente la soglia di anomalia e le offerte che si trovino al di sopra di questa soglia appunto o meglio al di sotto di questa soglia di anomalia possono essere appunto chiamate a giustificare gli operatori economici che le hanno presentate possono essere chiamate a giustificare le ragioni di questa offerta in tempi meno recenti si prevedevano delle forme di esclusione automatica che oggi permangono solamente rispetto a determinati affidamenti sotto soglia sotto soglia però normalmente quando un operatore economico ha effettuato un'offerta che è considerata anomala perché al di sotto della soglia di anomalia oppure perché l'amministrazione semplicemente ha un dubbio sulle caratteristiche dell'offerta presentata l'operatore economico può fornire appunto delle giustificazioni e spiegare le ragioni perché la sua offerta si presenti così conveniente le ragioni possono essere molteplici potrebbe avere l'operatore economico potrebbe avere per esempio delle rimanenze di magazzino rispetto a precedenti prestazioni effettuate o addirittura nel caso dei lavori potrebbe avere anche interesse a svolgere dei lavori al di sotto di un determinato corrispettivo per mantenere una determinata qualificazione e quindi poter competere su un determinato mercato anche negli anni successivi spetterà l'amministrazione verificare se le giustificazioni offerte dall'operatore economico siano effettivamente attendibili oppure se queste giustificazioni non sono attendibili e quindi se pertanto l'offerta dovrà ritenersi esclusa perché anormalmente bassa e questo è un giudizio discrezionale che ambisce proprio a valutare la congruità la serietà e anche la sostenibilità e la realizzabilità effettiva della prestazione che è richiesta agli operatori economici anche questi criteri di aggiudicazione devono essere formalizzati all'interno o meglio bisogna darne conto all'interno di queste checklist di autocontrollo e vi sono una serie di adempimenti legati proprio alla valutazione delle offerte ossia l'amministrazione è tenuta a verificare e indicare il criterio utilizzato appunto per l'offerta per la valutazione dell'offerta e se lo stesso è conforme alla normativa vigente e quando ricorre al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la negace che lista di autocontrollo bisogna verificare che le decisioni assunte dalla commissione siano adeguantemente giustificate e conforme ai criteri indicati del bando nel senso che se nel bando per esempio non era previsto un determinato criterio la commissione non può valorizzarlo autonomamente se per esempio non si parlava della bellezza architettonica di una determinata struttura la commissione non potrebbe autonomamente decidere di premiare un'offerta perché presenti questa caratteristica a discapito dell'altra e questa l'attività che da svolgere in sede di complicazione di queste checklist è un'attività abbastanza complessa perché effettivamente chi compila queste checklist poi sarà chiamato a verificare in concreto gli atti della commissione quindi una valutazione ex post sull'adeguatezza delle giustificazioni effettuate dalla commissione e valutare anche ex post se queste valutazioni della commissione siano effettivamente conformi a quei criteri utilizzati nel bando un'altra attività che bisogna svolgere è quella di verificare che questi criteri siano effettivamente adeguati e che non siano a loro volta una manifestazione di qualche trattamento discriminatorio preferenziale nei confronti di alcuni operatori economici per esempio indicando la provenienza geografica di alcune di alcune prestazioni o di alcune attività io potrei introdurre un elemento appunto per favorire alcuni concorrenti e in questo caso in sede di verifica bisogna effettivamente controllare se questi criteri determinano un'alterazione appunto del confronto concorrenziale perché ad esempio premino di più determinate marche o determinate aree geografiche rispetto appunto al contenuto della prestazione di cui ha bisogno l'amministrazione e anche in queste checklist è necessario indicare se ci sono state offerte anomale se sono stati registrati tutti i prezzi e se la scelta è stata effettuata eventualmente con il prezzo più basso o con altre formule e poi sostanzialmente bisogna riprodurre gli atti della procedura l'ultimo punto della checklist fa riferimento agli atti di approvazione della gradatoria definitiva e qui giungiamo alla fase diciamo finale della gestione di questa procedura di gara che è la fase che riguarda la cosiddetta aggiudicazione ed è si scompone in due parti dove c'è una proposta di aggiudicazione che è particolarmente rilevante soprattutto rispetto alla gestione dei fondi europei perché normalmente è proprio con la proposta di aggiudicazione che si rinviene quel elemento sia il raggiungimento dell'obbligazione giuridicamente vincolante e però la proposta di aggiudicazione è soggetta poi ad un'approvazione dell'organo competente secondo le specificità della stazione appaltante entro determinati termini affinché dopo queste operazioni di controllo la giudicazione diventa definitiva se l'ordinamento interno dell'amministrazione non indica un termine il termine per la conclusione di questo procedimento si intende pari a 30 giorni e decorso questo termine si intende approvata divenuta efficace quindi la giudicazione definitiva si procede alla stipula del contratto che deve avvenire entro 60 giorni o entro un diverso termine previsto appunto dagli atti di gara la mancata stipula del contratto deve essere motivata dettagliatamente dall'amministrazione sia rispetto all'interesse della pubblica amministrazione sia rispetto all'interesse nazionale il rapporto alla sollecita esecuzione appunto del contratto e in caso di mancata stipula del contratto si tratta di una fattispecie che può assumere il rilevo anche per la responsabilità e la reale la responsabilità disciplinare del dirigente con queste discipline quindi il registratore ha voluto introdurre dei meccanismi per garantire che quando venga effettuata una procedura di gara poi l'amministrazione procede effettivamente alla stipula del contratto e all'esecuzione appunto dell'opera o dell'attività che era in essa prevista e si è chiarito che anche nell'eventualità in cui sia pendente un ricorso c'ho la mera pendenza di un ricorso quindi un'iniziativa giudiziale di altri operatori economici che contestano per esempio l'esito appunto della procedura non costituisce una legittima causa per la mancata stipula del contratto ovviamente se la stipula del contratto non avviene nei termini previsti la giudicata può sciogliersi da alcun vincolo contrattuale senza alcun indennizzo e si salva comunque l'amministrazione della facoltà di stipulare dei contratti a tutela della responsabilità personale del proprio personale perdonate c'è un'incursione diciamo poste sono quelle che avevi visto e quindi ti lascio la parola per procedere nella tua illustrazione grazie ok certamente allora ritornando a noi eravamo arrivati alla fase della stipula del contratto che è questa fase che segna appunto un cambio di ruolo della pubblica amministrazione la pubblica amministrazione dopo la stipula del contratto diventa sostanzialmente come un soggetto privato la stipula del contratto è soggetta a termini massimi nel senso che deve essere stipulata abbiamo detto entro il termine di 60 giorni però ci sta anche un termine minimo per la stipula di contratto perché non può avvenire prima di 30 giorni dall'invio delle ultime comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva si tratta della cosiddetta clausola di stand still contrattuale e può essere superata solo in alcune ipotesi ossia se c'è stata solamente una offerta e non ci sono state appunto delle impugnazioni e quando l'appalto si è basato appunto su un appalto accordo quadro ovvero nel caso appunto degli affidamenti sotto soglia avvenuti anche attraverso il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione l'esecuzione in via d'urgenza in linea di massima non è consentita a meno che non vi siano delle situazioni di pericolo per una serie di interessi particolarmente sensibili per cui è inclusa anche la perdita di finanziamenti ovvero pericoli per la salute pubblica e l'igiene pubblica a fianco a questo stand still di carattere contrattuale ce ne sta un altro che è di carattere processuale che si collega all'eventuale proposizione di un ricorso giurisdizionale che è assistito da un'apposita istanza cautelare in questo caso bisogna attendere il pronunciamento dell'ordinanza con cui il TAR decida sulla sorte appunto di questa istanza cautelare prima appunto di procedere alla stipula del contratto e questo adempimento che viene spesso trascurato da Repubblica Amministrazione è particolarmente rivolante perché potrebbe costituire fonte di responsabilità nel caso in cui poi l'esito del giudizio eventualmente installato determini appunto una caducazione appunto degli atti della procedura e quindi il suggerimento è sempre di rispettarlo nell'eventualità in cui siate tra il personale proposto a questa attività tornando all'attività appunto di gestione delle procedure un altro aspetto particolare è quello delle centrali di committenza le centrali di committenza non sono altro che degli intermediari che possono svolgere le funzioni di stazione appaltante nell'interesse appunto di un'altra amministrazione giudicatrice e qui vi può essere un coinvolgimento diretto appunto di queste centrali di committenza che effettivamente svolgono e porcono in essere tutta l'attività finalizzata alla giudicazione di un determinato contratto oppure si può sostanziare questa attività anche in attività di carattere ausiliare la procedura la disciplina che riguarda queste centrali di committenza è una disciplina particolarmente complessa e che è stata poi intervagata da numerosi interventi normativi che hanno compresso o ampliato gli obblighi di ricorrere a questa soluzione gran parte della disciplina si muove nella logica della spending review ossia del contenimento dei costi della spesa della pubblica amministrazione e parte dal presupposto che gestendo gli acquisti su grandi numeri si possano raggiungere meglio delle economie di scala non è solo questa la finalità appunto del ricorso a queste centrali di committenza in quanto vi è anche un'esigenza di natura tecnica perché non tutte le amministrazioni aggiudicatrici dispongono dei livelli di professionalizzazione appunto richiesta per il compimento e lo svolgimento di queste attività che presiedono l'affidamento di un determinato contratto qui trovate scanditi i principali interventi che hanno caratterizzato le centrali di committenza per quello che può rilevare in questa sede il ruolo delle centrali di committenza assume il rilevo anche rispetto ad una disciplina in realtà ancora non pienamente attuata che è quella della qualificazione delle stazioni appaltanti e questa disciplina parte dal presupposto che ogni amministrazione per poter procedere all'affidamento di determinati beni servizi o lavori debba disporre di adeguate capacità tecnico professionali quindi debba dimostrare una capacità di programmazione e progettazione una capacità di affidamento e una capacità di verifica appunto sull'esecuzione e controllo dell'intera procedura finché questo sistema di qualificazione non verrà non entrerà in vigore è prevista la gestione di una anagrafe di questi soggetti aggregatori e attualmente è previsto che vi siano fino a un massimo di 35 soggetti e attualmente oltre a Consip ci sono 19 centrali di committenza regionale a cui si aggiungono due province autonome 8 città metropolitane e due province semplici è prevista la disciplina prevede che le pubbliche amministrazioni che non sono qualificate ai sensi di quell'articolo 38 che abbiamo visto prima possono procedere direttamente solamente per per acquisti per forniture e servizi di valore inferiore ai 40 mila euro o per lavori di valore inferiore ai 150 mila euro e mentre per le procedure di importo superiore è previsto che debbano ricorrere a queste centrali di committenza per quanto riguarda il procedimento la scansione del procedimento l'amministrazione interessata ad una determinata prestazione deve proporre un'istanza a lo sportello telematico e deve produrre tutti gli atti che sono obbligatori cioè a partire dal capitolato speciale le condizioni di partecipazione di determinazione a contrarre schema del contratto e via dicendo questi atti sono poi successivamente approvati dalla centrale di committenza che avvia e gestisce fino alla sua conclusione la procedura formula la proposta di aggiudicazione e verifica i requisiti e dà una comunicazione all'esito dell'intero processo alla stazione appaltante in questo caso si registra una duplicazione delle funzioni di responsabile del procedimento perché vi sarà un responsabile del procedimento che afferisce alla stazione appaltante che è legato all'attività di programmazione dei bisogni progettazione individuazione diciamo delle caratteristiche della prestazione richiesta e poi dovrà accolare la fase esecutiva del contratto mentre ci sarà un responsabile del procedimento nominato dalla centrale di committenza che invece svolgerà delle limitate funzioni di programmazione perché riguardano quella programmazione relativa prevalentemente all'aggregazione dei fabbisogni e dell'offerta alla caratterizzazione della gara e conclude la propria attività con l'affidamento appunto di quella procedura e quindi anche in questo caso bisogna fare attenzione perché c'è una potenziale sovrapposizione di luoghi una particolare tipologia attraverso il quale si può far fronte alla gestione delle procedure è quello di ricorre a specifici mercati elettronici e il mercato elettronico della Consip della pubblica amministrazione gestita dalla Consip è quello che assume maggior rilievo all'interno di questo mercato probabilmente lo sapete ci sono dei fornitori abilitati che offrono i propri beni e servizi e le pubbliche amministrazioni possono effettuare degli acquisti diretti attraverso degli ordini sui beni a catalogo oppure richiedere dell'offerta è utilizzabile per gli importi inferiori alla soglia comunitaria e vi sono anche questo meccanismo assunto specifico rilievo anche per determinate tipologie di lavori a contenuto specialistico che sono che rientrano appunto che possono essere gestite sino al valore di un milione di euro all'interno del mercato elettronico della pubblica amministrazione ovviamente questo modello presuppone genera dei vantaggi della pubblica amministrazione che sono legati prevalentemente alla riduzione delle tempistiche d'acquisto e anche alla possibilità di accedere ad una platea amplissima di fornitori che teoricamente dovrebbero avere degli standard di affidabilità già comprovati è possibile un più immediato confronto operativo fra i prodotti e tutta la procedura risulta tracciata in modo elettronico e quindi dovrebbe semplificare gli adempimenti procedurali e anche per le imprese ovviamente si generano dei vantaggi perché hanno una maggior visibilità dei loro prodotti che riducono diciamo i normali costi di intermediazione commerciale venendo adesso nel dettaglio ad una alla questione degli affidamenti sotto soia questa è disciplinata secondo un modello di oneri differenziati in funzione del valore dell'affidamento in funzione sia del valore dell'affidamento sia in funzione delle caratteristiche della prestazione richiesta o meglio del suo oggetto se si tratta di lavori o di servizi e forniture secondo la disciplina ordinaria prevista dal decreto legislativo 50 del 2016 gli affidamenti diretti senza consultazioni e operatori economici erano ammissibili e adesso chiariamo questo equivoco fino all'ammontare di 40.000 euro mentre man mano che cresce il valore della prestazione è richiesto l'invito di l'acquisizione di preventivi o l'invito la consultazione di un numero di operatori economici via via crescenti in funzione del valore e della tipologia di prestazione richiesta oltre il milione di euro per i lavori è necessario ricorrere alle procedure ordinarie che invece si applicano per gli appalti di servizi e fornitori che cedono la soglia comunitaria prevista dall'articolo 5 queste procedure sono oggi definite nella linea guida numero 4 dell'ANAC che sono definite in modo abbastanza dettagliato e gestiscono e consentono una gestione passo dopo passo appunto dei relativi adempimenti però questa disciplina di riferimento per gli affidamenti sotto soglia ha subito delle significative modifiche per effetto di tutta quella disciplina che è stata introdotta per far fronte all'emergenza pandemica perché sono state notevolmente ampliate i margini per la pubblica amministrazione che ricorre agli affidamenti diretti con una serie di interventi che hanno via via innalzato la soglia di riferimento così se con il decreto legislativo gli affidamenti diretti ossia affidamenti senza consultazione di operatori economici erano ammissibili fino alla somma di 40.000 euro si è arrivati con gli ultimi interventi quelli del decreto legge 77 del 2021 che consentono l'affidamento diretto senza consultazione di alcun operatore economico fino all'ammontare di 150.000 euro nel caso di lavori o fino all'ammontare di 139.000 euro nel caso di servizi e forniture queste regole valgono fino al 30 giugno del 2023 e si affiancano anche ad un affievolimento degli oneri che caratteristicano la gestione delle procedure negoziate in cui il numero di inviti di volta in volta previsto appunto dalla procedura è anch'esso diciamo parametrato al valore dell'importo dell'affidamento che si arriva a 5 operatori economici o almeno 10 per quegli affidamenti che compresi fra un milione e la soglia europea quindi questa disciplina è una disciplina a carattere transitorio che innova profondamente le capacità d'azione della pubblica amministrazione e che ambisce soprattutto ad una riduzione delle tempistiche di affidamento dei regativi contratti e per questo che viene previsto che queste regole sono affiancate anche da dei termini massimi per la conclusione della procedura che sono di due mesi nel caso di affidamento diretto o di quattro mesi nel caso appunto di procedura negoziata qui la disciplina prevede comunque il rispetto di alcuni oneri nonostante la possibilità di ricorrere ad affidamenti diretti è accompagnata dal rispetto di alcuni oneri primo fra tutti il principio di rotazione appunto degli affidamenti e degli inviti e c'è nel caso di procedura negoziata c'è una libera scelta fra il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero il criterio del minor prezzo per in questo caso è ammessa l'esclusione automatica delle offerte presuntivamente anomale qualora ci siano almeno cinque offerte ammesse sempre che il criterio sia quello del prezzo più basso quindi vengono meno tutti quegli obblighi di richiedere giustificazioni a corredo appunto della anomalia dell'offerto ed è poi prevista che la caluzione provvisoria non sia necessaria ed è previsto l'inserimento comunque di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato ovviamente qui lo scopo della disciplina è quello di velocizzare di far fronte alla crisi economica e quindi di non porre alcun ostacolo alla stipula di contratti alla stipula di determinati contratti ciò nonostante bisogna ricordare che intanto l'amministrazione ha sempre la facoltà di scegliere di osservare le procedure ordinarie nel senso questa disciplina è una disciplina che facoltizza l'amministrazione rispetto ad un affidamento diretto o ad un affivolamento degli oneri di gestione delle procedure negoziate però qualora l'amministrazione lo ritengono opportuno possono comunque procedere secondo gli strumenti ordinali procedura aperta o procedura ristretta anche per quanto riguarda l'affidamento diretto si opera una distinzione fra affidamento diretto puro e mediato ossia l'affidamento diretto puro è quello in cui effettivamente la stazione appaltante contratta con un unico operatore selezionato e quindi qui tutta la trattativa la gestione appunto della trattativa contrattuale è nell'integrale disponibilità dell'amministrazione che nel gestire appunto questo vicende dovrà fare riferimento magari alla consultazione di alcuni listini di prezzi oppure a quelli che sono stati gli affidamenti appunto già disposti però c'è anche la facoltà da parte della pubblica amministrazione di fare un affidamento mediato ossia di un affidamento in cui contatta più o meno formalmente più operatori economici in questo caso comunque quando anche l'amministrazione preveda il ricorso alcuni parametri con il quale poi deciderà di contrattare con uno piuttosto con un altro operatore economico non è previsto un criterio di aggiudicazione in senso stretto perché la scelta degli operatori economici è comunque rimessa la discrezionalità dell'amministrazione nel senso che l'affidamento rimane comunque un affidamento diretto quindi questa distinzione fra affidamento diretto puro o mediato è una distinzione che riguarda semplicemente le modalità di gestione di queste trattative precontrattuali e queste modalità sono apprezzabili sono come differenze apprezzabili soprattutto il rapporto alla procedura negoziata che invece deve rispondere ad un'inter procedimentale predefinito stabilito dallo stesso codice ciò nonostante restano fermi alcuni principi che devono essere comunque osservati anche negli affidamenti sotto soia e anche negli affidamenti diretti cioè ossia quello di non discriminazione e trasparenza e quindi quello di individuare già negli atti iniziali della procedura se si tratta appunto di procedura negoziata le caratteristiche delle opere dei beni appunto del servizio e quale sia l'importo massimo stimato per l'affidamento di questi servizi il principio che risulta effettivamente maggiormente condizionante il ricorso a queste procedure è il principio di rotazione che è un principio che opera sia rispetto agli affidamenti sia rispetto agli inviti e qui è il modo attraverso il quale viene garantita una tutela della concorrenza nonostante la concessione di questi ampi margini di discrezionalità all'amministrazione e quindi vuole garantire sempre che vi sia una par condizio di trattamento fra gli operatori economici interessati e quindi evitare che si consolidano dei rapporti contrattuali privicheggiati fra la pubblica amministrazione e un determinato operatore economico e quindi in sostanza vuole garantire un avvicendamento nella posizione di contraente della pubblica amministrazione questo principio noi lo possiamo diciamo intendere subordinato al riscontro di un di un aspetto che riguarda il profilo oggettivo e altri che riguardano il profilo soggettivo il profilo soggettivo implica che questo principio opera del divieto di invito o di affidamento del contraente uscente solo rispetti ad affidamenti di una stazione appaltante nei confronti di un specifico operatore economico e sotto il profilo oggettivo ovviamente questo principio opera solo quando l'affidamento precedente e quello successivo rientrino nello stesso settore merceologico meglio nella stessa categoria di opere o comunque nello stesso settore di servizi è previsto che possano esserci delle deroghe a questo principio di rotazione però sono ipotesi particolarmente delicate per la pubblica amministrazione e devono essere supportate da un'adeguata motivazione quindi diciamo un affidamento che non rispetti che non sia rispettoso del principio di rotazione non è per sua natura illegittimo bisogna sempre guardare a molte quali sono le ragioni espresse e formalizzate dalla pubblica amministrazione che giustificano la mancata osservanza di questo principio di rotazione allora rispetto alle deroghe che sono state via via ammesse dalla giurisprudenza e poi anche confermate appunto dall'ANAC è stato richiesto che il principio il divieto di invito del contraente uscente può essere superato qualora l'amministrazione la stazione appaltante fornisca un'adeguata e puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che hanno indotto a derogarvi quali sono le ragioni che astrettamente possono legittimare il mancato rispetto di questo principio di rotazione può essere questa ce le suggerisce la giurisprudenza stessa e ci indica come uno dei fattori il numero estremamente circostritto circoscritto degli operatori presenti sul mercato significa che se non ci stanno in un determinato mercato non ci stanno tanti operatori ma ci sta per esempio un unico operatore che è in grado di garantire quella prestazione o comunque è un numero estremamente esiguo si può venire meno al rispetto rigoroso di questo principio di rotazione analogamente potrebbe essere giustificato rispetto al grado di soddisfazione maturato rispetto all'operatore uscente sul presupposto che questo grado di soddisfazione maturato dalla pubblica amministrazione rispetto all'operatore uscente non potrebbe essere eventualmente raggiunto ricorrendo ad altri operatori oppure si può fare riferimento al peculiare oggetto e alle specifiche caratteristiche dell'attività del mercato di riferimento è un'operazione particolarmente rischiosa per la pubblica amministrazione o meglio per l'operatore per il funzionario della pubblica amministrazione che dovrà giustificare il mancato rispetto del principio di gradozione deve essere effettivamente una ipotesi che deve essere ancorata a ragioni effettivamente obiettive perché il rischio è sempre quello di voler favorire un determinato operatore economico rispetto ad altri che potrebbero essere astrettamente in grado di fornire la medesima prestazione o addirittura una prestazione migliore ovviamente il grado di pervasività di questa motivazione che deve essere offerta nel caso in cui l'amministrazione voglia non conformarsi al principio di rilutazione cambia a seconda se l'operatore precedente era stato semplicemente invitato a proporre la sua offerta o era stato effettivamente l'operatore affidatario poi di quella determinata commessa perché se era un candidato non affidatario però aveva comunque presentato la sua offerta ovviamente qui la motivazione può essere meno rigorosa e meno astringente mentre se era proprio il contraente uscente qui la motivazione deve essere particolarmente dettagliata l'unica ipotesi in cui si può decidere legittimamente senza particolari oneri motivazionali di non rispettare il principio di rotazione si collega a quell'eventualità in cui l'amministrazione decida anche se siamo al di sotto delle soglie europee oppure delle altre soglie nazionali che imporrebbero il ricorso a determinate procedure è l'eventualità in cui l'amministrazione decide di procedere con una procedura aperta se l'amministrazione decide di procedere con una procedura aperta proprio il carattere aperto della procedura e l'accessibilità a tutti gli operatori economici in sede di presentazione delle offerte giustifica la mancata osservanza di questo particolare principio di rotazione la deloga a questo principio di rotazione quindi è prevista un ampliamento delle possibilità di ricorso all'affidamento diretto però questo ampliamento è accompagnato in realtà era già presente però da una rigorosa osservanza del principio di rotazione che sarà ancora più rigorosa soprattutto quando si amplia la platea il valore appunto delle opere e dei servizi che possono essere oggetto di affidamento diretto c'è un altro profilo adesso su cui ci dobbiamo soffermare che è quello dell'estensione del contratto questo è un problema che rileva sia rispetto alla prospettiva temporale di estensione del contratto sia un altro problema è quello dell'estensione del contenuto appunto dell'oggetto del contratto per quanto riguarda la proroga e il rinnovo sono due istituti che normalmente tendono ad essere confusi però logicamente sottendono due fenomeni diversi perché la proroga dovrebbe comportare semplicemente un differimento del termine finale del rapporto che per il resto resta regolato appunto dal contratto originario il rinnovo come dice la stessa parola presuppone un'annovazione appunto del rapporto contrattuale che a sua volta sottende una rinegoziazione fra i medesimi soggetti e quindi un'espressione una manifestazione appunto di volontà tanto dell'amministrazione quanto appunto dell'operatore economico per l'installazione di un rapporto nuovo benché di contenuto analogo a quello originario entrambe le discipline su proprio rinnovo hanno avuto delle alterne vicende e in linea di massima si può dire che la possibilità di ricorso a questi istituti è stata notevolmente ristretta rispetto alle possibilità consentite dalla previgente disciplina mi riferisco al precedente codice degli appalti il cosiddetto codice dell'ISE ovviamente questa qualificazione fra provo e rinnovo è indipendente dal nomen iuris adottato nel senso che bisogna valutare di volta in volta qual è l'effettiva articolazione appunto dei rapporti cioè se manca una nuova azione del rapporto il rapporto questo differimento del termine dovrà essere inteso come prologa contrattuale dell'accordo quando anche le parti l'abbiano definito come rinnovo e questo è un aspetto rievante della prologa del rinnovo del contratto perché come avevamo già visto nel seminario precedente incide ed interferisce sul calcolo del valore stimato di un determinato appalto perché il valore stimato di un determinato appalto deve tenere necessariamente conto di questi elementi per eventuali opzioni o rinnovi del contratto che siano stabiliti in sede stabiliti nei documenti di gara perché c'è il rischio che altrimenti si prefigura appunto una una determinata soglia per un appalto e prevedendo poi un'ipotesi di rinnovo sostanzialmente si riuscirebbe a deludere l'osservanza della disciplina più rigorosa prevista nel caso di superamento di quella determinata soglia le condizioni che sono oggi imposte per questa estensione decaturata del contratto sono particolarmente stringenti e le troviamo disciplinate in un unico articolo particolarmente complesso che è l'articolo 106 del codice dei contratti è un articolo particolarmente complesso perché racchiude al suo interno diciamo tutte le ipotesi di modifica del contratto e sono ipotesi particolarmente problematiche perché ogni volta che si interviene sulla modifica di un contratto si interferisce anche sulla tutela appunto della concorrenza perché modificando il contratto potrebbero essere stati operatori che a quelle diverse condizioni avrebbero offerto delle condizioni più soddisfacenti rispetto all'interesse dell'amministrazione l'articolo 106 ci dice che la durata del contratto può essere modificata solamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di prologa la prologa è limitata nel tempo strettamente necessaria alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante quindi quali sono i requisiti affinché si possa aggiungere effettivamente ad una prologa del contratto per come declinati dal comma 11 dell'articolo 11 in primo luogo si richiede che quindi il contratto deve essere ancora in corso esecuzione quindi la possibilità di prologa è una facoltà esercitabile solo fin tanto che il contratto non giunga alla sua naturale scadenza se il contratto è già scaduto non è possibile procedere ad una prologa del rapporto contrattuale questa ipotesi poi deve essere espressamente contemplata dalla ex specialis perché incide anche sulla partecipazione e sulle offerte che gli altri concorrenti avevano presentato quindi è giusto che tutti i concorrenti all'atto delle presentazioni dell'offerta siano consapevoli di una possibile durata ulteriore del contratto e poi altro aspetto fondamentale è che la durata della prologa non è nella disponibilità dell'amministrazione perché è strettamente limitata nel tempo necessario per la conclusione delle procedure volte all'individuazione del nuovo contente che cosa significa ciò che questa ipotesi di prologa disciplinata dall'articolo 106 del codice dei contratti in realtà non rappresenta altro che una tipologia di prologa tecnica una prologa tecnica che era normalmente consentita ossia quella prologa che serviva semplicemente per la prosecuzione dell'attività nell'attesa appunto di selezionare il nuovo contente che però secondo i requisiti imposti dal codice dei contratti adesso è soggetta a dei requisiti ben più stringenti perché anche la prologa tecnica deve essere esplicitamente prevista dal bando ok da una specifica clausola del bando e è possibile ricordervi solo per cause che non siano determinate dalla responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice quindi non è più prevista una prologa normale ma è prevista solamente una prologa tecnica e questa prologa tecnica per essere legittimamente disposta deve essere prevista espressamente dal bando dall'ex specialis e le ragioni appunto della prologa tecnica non devono dipendere dalla responsabilità dell'amministrazione ciò che non contiene la disciplina introdotta dal codice invece è una ipotesi espressa di rinnovo e quindi conformemente alle indicazioni fornite dalla giurisprudenza e anche dall'ANAC il rinnovo non dovrebbe essere più ammesso con l'entrata in vigore del decreto legislativo numero 50 del 2016 anche se però tenendo conto di quanto abbiamo detto che si deve guardare poi alle differenze sostanziali il più delle volte è figurato come un rinnovo negli atti di gara ma in realtà si tratta di una prologa quindi l'amministrazione deve ben definire a monte quali siano le esigenze di durata appunto del rapporto contrattuale e deve definire a monte e anche programmare poi la gestione delle procedure per il nuovo affidamento che saranno necessarie alla conclusione del contratto perché solo ed è ammessa solo una prologa tecnica e questa prologa tecnica è ammessa solamente ove contemplata e solo per il tempo necessario per la conclusione della procedura vista l'impossibilità di ricorrere almeno secondo l'interpretazione prevalente all'istituto del rinnovo molti operatori della giurisprudenza tendono ad assimilare il rinnovo ad una formula parzialmente diversa ossia la ripetizione appunto di servizi analoghi ed è una figura che è stata prevista che consente appunto di affidare servizi analoghi in assenza appunto di una procedura aperta e quindi anche attraverso una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara all'operatore che è già diciamo stato contrattato per dei servizi che riguardino il medesimo oggetto però per ragione del carattere eventuale di questi servizi analoghi gli stessi devono essere contemplati negli atti di gara analogamente a quanto visto per la proroga tecnica però il relativo importo incide solamente sulla quantificazione del valore complessivo dell'appalto ai fini del raggiungimento delle soglie europee e quindi della procedura aperta o meno appunto da seguire tuttavia proprio per questo carattere eventuale appunto di questi servizi analoghi che l'amministrazione può chiedere o può non richiedere non interferisce sul valore sui requisiti di partecipazione e neanche appunto per il calcolo della cauzione provvisoria quali sono i presupposti quindi per questi servizi analoghi il valore iniziale dell'appalto deve comprendere l'importo imprevisto per ripetizioni l'affidamento di queste ripetizioni al contenente deve seguire ad una precedente procedura aperta e ristretta e altra condizione deve intervenire entro tre anni dalla stipula del primo contratto e ovviamente deve avere ad oggetto proprio servizi analoghi a quelli che sono stati oggetto dell'affidamento principale venendo alle altre modifiche che possono interferire sul contratto il problema si pone sempre rispetto all'interesse al rinnovo appunto o meno della procedura tutte le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso devono essere autorizzate da responsabili del procedimento conformemente alla disciplina dell'amministrazione di appartenenza e queste modifiche al contratto di norma dovrebbero comportare cambiando l'oggetto della prestazione anche un nuovo confronto competitivo perché trattandosi di prestazioni diverse potrebbero essere operatori in grado di offrire queste prestazioni a condizioni migliori rispetto a quelle assegnate al contraente originariamente selezionato e quindi l'articolo 106 ci dice che una nuova procedura d'appalto è richiesta per modifiche alle disposizioni di un contratto pubblico o di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia che siano diverse da una serie di ipotesi contemplate nello stesso articolo 106 si tratta di ipotesi in cui è possibile non ricorrere alla procedura di gara sono quelle previste nell'articolo 106 che riguardano modifiche che siano già previste dagli atti di gara la disciplina dei cosiddetti lavori servizi o forniture supplementari varianti per fatti imprevisti e imprevedibili il caso del nuovo contraente poi il caso di modifiche non sostanziali salvo chiarire che cosa si tratta poi vi sono altre variazioni che sono di lieve impatto economico e si corrono per gli affidamenti sottosoglie e anche in questo caso si tratta di modifiche che non comportano una rinnovazione l'obbligo di rinnovazione appunto degli atti di gara allora il primo caso si tratta di modifiche già previste dagli atti di gara ossia l'amministrazione ha già prefigurato l'eventualità che le prestazioni principali possano subire un'alterazione appunto delle condizioni e in questo caso l'onore è richiesto all'amministrazione e che siano contemplate in clausole chiare precise ed inequivocabili in questo caso diciamo che non si registra il problema di una regola della concorrenza perché quando l'operatore economico ha partecipato alla procedura ha partecipato ad una procedura che già contemplava una possibilità di modificare il contratto il contratto posto a base della competizione per quanto riguarda invece i lavori o forniture supplementari qui la supplementarietà appunto il problema è dovuto alla supplementarietà del lavoro come consideriamo un lavoro effettivamente supplementare deve essere una prestazione che non si figura come una prestazione autonoma ed aggiuntiva rispetto a quella del contratto principale ma deve essere una prestazione funzionalmente a quella originaria e che costituisce un presupposto per garantire la fruibilità proprio della prestazione che ha costituito oggetto di aggiudicazione e oggetto del confronto competitivo questa necessità di ricorrere ai lavori servizi o forniture supplementari deve essere poi sorta dopo la giudicazione e quindi non deve essere una prestazione ricompresa nel contratto originario ed è possibile procedere all'affidamento di questi lavori supplementari senza ricorrere ad una procedura di gara nuova solamente se una procedura di gara nuova sarebbe impraticabile per motivi economici o tecnici pensiamo all'interoperabilità delle apparecchiature che sono coinvolte magari in un determinato processo produttivo e comporti per l'amministrazione o comporti per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disguiti e una consistente duplicazione di costi anche in questo caso gli oneri motivazionali devono essere rispettati in modo dettagliati e deve essere chiarito perché l'interazione con gli strumenti dell'appalto iniziale non è più possibile in questo senso la giurisprudenza ha chiarito che non è che l'affidamento diretto di lavori supplementari non può essere giustificato dalla mera esistenza di un vantaggio tecnico economico che potrebbe derivare dalla loro esecuzione perché deve trattarsi proprio di prestazioni non autonome ma che sono effettivamente funzionali a garantire la fruibilità delle prestazioni del contratto oggetto dell'affidamento originario l'ultima condizione che poi è una condizione che ritroveremo anche per altre ipotesi di modifica disciplina del contratto è che la prestazione l'aumento di prezzo non può eccedere il 50% del valore del contratto iniziale venendo alle altre ipotesi vi è il caso appunto che si raggiunga la necessità di una modifica appunto della prestazione originariamente dedotta nel contratto per circostanze impreviste e imprevedibili fra cui possono assumere rievo anche la sopravvenienza di particolari onere ad esempio ambientali che derivano da disposizioni legislative specifiche e in questo caso l'affidamento è consentito la modifica diciamo è consentita se non altera la natura generale del contratto è sempre che non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale tenendo conto che più modifiche che in caso di più modifiche tale limitazione si applica al valore di ciascuna scusatemi non ero andato a tempo con la slide comunque l'altra ipotesi è quella di un nuovo contraente che disciplina i casi per esempio di estinzione della persona giuridica o di subentro negli obblighi del contraente principale da parte dell'amministrazione nei confronti del subappaltatore e in questo caso si tratterebbe di una modifica che riguarda i soggetti i soggetti coinvolti nel contratto mentre un'altra ipotesi ancora è quella legata alle cosiddette modifiche non sostanziali che sono quelle che non incidono sugli elementi essenziali del contratto qui si tratta di una serie di elementi che non sono inquadrati secondo una logica univoca e sottengono sempre un apprezzamento discrezionale da parte dell'amministrazione quindi il caso di modifiche non sostanziali è un'ipotesi ancor più delicata per l'operatore economico che voglia modificare il contratto perché tutti questi indici e parametri di riferimento considerati dalla normativa sottendono comunque una valutazione non ancorata a criteri e parametri certi come potrebbe essere per esempio il valore economico della modifica ci sono infine delle modifiche di lieve impatto economico che sono ammesse sempre qualora rispettano due soglie sia la soglia di rilevanza europea sia se sono circoscritti al 10% del valore iniziale per i servizi e fornitura e al 15% del valore iniziale del contratto nell'eventualità in cui si tratti di lavori anche queste e c'è l'ultima ipotesi scusatemi che in realtà non è un'ipotesi aggiuntiva ma differente che quella del cosiddetto quinto d'obbligo nel senso che tutte quelle variazioni contrattuali che comportano un incremento pari a un quinto del valore originale dell'appalto obbligano l'appaltatore a eseguire le prestazioni previste dalla pubblica amministrazione o meglio può capitare l'amministrazione a un certo punto si rende conto che è necessario incrementare diciamo l'attività di un 20% e in questo caso l'appaltatore non si può sottrarre agli obblighi agli obblighi di esecuzione o meglio non può far valere il proprio diritto alla risoluzione del contratto si era molto discusso se si trattasse di un'ipotesi aggiuntiva questa del cosiddetto quinto d'obbligo o di un'ipotesi circoscritta subordinata comunque al rispetto delle condizioni che abbiamo visto precedentemente qui c'è un comunicato dell'ANAC che ha chiarito la vicenda che questo quinto d'obbligo opera sempre all'interno del rispetto delle condizioni che abbiamo visto queste vicende ovviamente come immaginate essendo particolarmente rilevanti incidono anch'esse sugli adempimenti che devono essere predisposti nell'ambito della checklist e sostanzialmente avete l'obbligo di dare conto di ogni passaggio con cui si è addivenuto alla diciamo modifica dell'oggetto appunto del contratto della relativa durata e anche quali siano le basi normative e le ragioni poste a fondamento di questa scelta allora visto che ci stiamo approssimando diciamo alla fine vi volevo dare alcune indicazioni rispetto all'accordo quadro che era stato oggetto anche di alcune domande allora questo è uno strumento che non è diciamo non è comincia ad essere utilizzato ma non è utilizzato con tutte secondo tutte le opportunità che dimostra allora l'accordo quadro la caratteristica fondamentale dell'accordo quadro è che si affida oggetto dell'affidamento della procedura è un assetto di determinati rapporti che può essere con un operatore economico con più operatore economico a condizioni fisse oppure con più operatori economici a condizioni esposte ad una rinegoziazione l'amministrazione ha in mente che deve realizzare facciamo un esempio 100 chilometri di strada fa un accordo quadro per 100 chilometri di strada e poi via via con il passare del tempo stacca dei contratti esecutivi con cui poi assegna questi lavori la particolarità è che questo accordo quadro contiene già la definizione delle condizioni economiche e delle condizioni prestazionali richieste agli operatori selezionati ma non vincono all'amministrazione all'esecuzione alla necessità di eseguire integralmente tutte le prestazioni che sono state redotte nell'accordo quadro l'accordo quadro ha una durata massima di 4 anni per i settori ordinali e di 8 per i settori speciali però i contratti esecutivi staccati a valle dell'accordo quadro non sono soggetti a tale limitazione temporale qui c'è un significativo risparmio dei tempi e costi nella gestione di queste procedure e l'amministrazione dispone di una effettiva flessibilità nella gestione di questi eventi perché non si assume l'obbligo di evadere la richiesta immediatamente all'esito appunto della procedura di gara ma può far fronte questo accordo quadro può essere utilizzato anche per far fronte diciamo ad esigenze presumibili che non siano però ancora del tutto attuali e rispetto alle procedure di utilizzo dei fondi europei le specificità che riguardano l'accordo quadro è che il raggiungimento dell'obbligazione giuridicamente vincolante non si registra con la proposta di aggiudicazione perché la proposta di aggiudicazione ancora non fa sorgere dei corrispondenti obblighi nei confronti del proprietario economico e quindi anche per le tempistiche dei relativi adempimenti in ordine all'utilizzo dei fondi europei è necessario che entro le scadenze previste sia staccato anche il contratto esecutivo o emesso l'ordine di servizio o quell'altra forma di ordinativo che caratterizza quella formula questa forma di accordo quadro vi dicevo che dispone di grandi potenzialità questo accordo quadro anche perché è possibile almeno rispetto ad alcuni fondi europei è possibile avvalersi gli accordi quadro già stipulati in precedenza nel senso che se l'amministrazione ha in essere un accordo quadro può adempiere gli oneri di rispetto delle procedure ad evidenza pubblica richiamando l'accordo quadro precedentemente stipulato e in questo caso quindi semplifica notevolmente gli oneri procedimentali legati alla gestione dei fondi europei ma il beneficio più grande è che consente anche di a seconda della natura di prestazione di utilizzare le economie di gara che normalmente vengono riassorbite a livello di fondi europei allora io Maria Rosalia io potrei aver finito nel senso ci stavano alcune questioni che riguardavano altre tipologie contrattuali un po' più particolari assolutamente avremo tempo il 6 luglio per chiudere e poi appunto per parlare degli aiuti di Stato io credo che appunto i nostri discenti comunque avranno sicuramente del materiale sul quale ragionare hai parlato di temi assolutamente caldi quest'ultimo ma anche appunto tutta la parte delle delle proroghe dei rinnovi diciamo è stata abbastanza credo importante da sviscerare non vedo altre domande vediamo aspettiamo giusto qualche istante per vedere se qualche collega vuole intervenire con la chat allora vedo che Mario Cerroni ci scrive la consultazione degli operatori economici nella legge 120 2020 prevede che gli inviti tengano conto tra l'altro di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate lei come lo applicherebbe? allora bisogna tenere conto della diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate proprio per evitare che si consolidano le posizioni effettivamente privilegiate nei confronti e anche discriminatorie nei confronti degli operatori che appartengono ad un'area il discorso si il problema obiettivamente per l'amministrazione è di capire se si tratta di operatori economici che sono invitati con procedure a cui hanno avuto accessibilità su cui hanno fatto richiesta per l'accesso e allora in quel punto in quel caso semplicemente non si può si devono invitare anche gli operatori economici che provengono per esempio da altre regioni il problema è un po' più delicato se invece qui il problema della dislocazione territoriale ma non è il caso contemplato dalla normativa rilevi rispetto a procedure di affidamenti appunto diretti io applicerei questo principio invitando ovviamente tutti gli operatori economici che dispongano dei requisiti richiesti rispondano di capacità tecnica comprovata allora possiamo fare un accenno ai requisiti capacità sulla capacità al contrario delle verifiche e controlli dell'articolo 80 allora sì sicuramente possiamo fare un accenno scusami Maria Rosario ho fatto da solo sto leggendo e qui pure ovviamente questa non è una rappresentazione esaustiva delle problematiche ai contratti qui ci sarebbero molte cose da dire sui requisiti di capacità a contrarre non ne abbiamo parlato minimamente non abbiamo parlato minimamente sugli operatori economici e su tanti altri aspetti qui anche per ragioni legate alle tempistiche ovviamente si possono fare degli approfondimenti rispetto a questi profili se sono di interesse lo possiamo seguire nel prossimo seminario a monte diciamo della parte sugli aiuti di Stato e volendo possiamo portare anche qualche esempio concreto rispetto alla dislocazione territoriale delle imprese invitate che questa è una tematica che effettivamente è nuova in parte perché pone dei dubbi legittimi rispetto all'operatore come faccio ad invitare imprese che sono dislocate su altri contesti territoriali se magari non le conoscono non ci sono e qui vediamo che questo potrebbe essere interessante un argomento oggetto di approfondimento questo su requisiti e poi tenendo presente che nel corso del prossimo incontro ci sarà la materia degli aiuti di Stato che è una materia anch'essa molto ampia che ha delle interferenze anche con i servizi pubblici e con altre questioni io se ci stanno altre questioni che possono essere di interesse ecco ovviamente sono a disposizione conformemente agli standard anche perché abbiamo detto potete scriverlo qui oppure sulla nostra mail a tparfas.abruzzo chiocciolaformes.it la stessa mail con la quale ricevete l'invito con il link e comunque anche se non riusciremo ad esaurire entro il 6 luglio considerate che ora stiamo studiando una modalità poi per fare degli incontri dei focus group in presenza a partire subito dopo l'estate quindi ci sarà sicuramente occasione per portare avanti questo gruppo ormai solido e consolidato che fino ad oggi ha seguito queste nostre attività a distanza allora quindi con l'impegno di dare una risposta diciamo più approfondita a Mario Cerroni piuttosto che Alessandro Da Ross e a tutti appunto i colleghi che sono intervenuti in maniera fattiva e hanno partecipato io ringrazio l'avvocato Caruso per diciamo anche la docenza di oggi per averci illustrato anche oggi questa parte abbastanza complessa del codice degli apparti e ci aggiorniamo quindi a a mercoledì 6 luglio per il prossimo webinar grazie a tutti e buon lavoro buon lavoro grazie buon lavoro grazie a tutti grazie a tutti